e si ragazzi era più di due mesi che devo fare un video qui con la ctrash united non so perché sinceramente non lo so perché l'ho avuto un po' a terminare questa c'è interrompere questa serie perché avevo messo malissimo in classifica diciamo ero assolutamente male e poi ero un po stufato e in più avevo finito anche psn come era scaduta e quindi niente oggi siccome non avevo voglia di farne la carriera ne zatto decido di incominciare vi ricordate che avevo fatto tipo sei partite mi sembra non mi ricordo perché non mi ricordo neanche io perché non ci gioco più da quel giorno io ho giusto un paio di amichevoli così questo fatto quattro partite no vabbè la pensavo peggio per quattro partite tre punti e l'ho cambiato la rossa la rossa un po' cambiata avete bisogno di alcuni giocatori tipo luna questo qui che è forte tra l'altro non è male cioè 71 forse il terzino migliore che ci sia in serie b la dice sempre quella e dovrò cambiarla probabilmente va comprato pasquato per la sinistra che mi piace di più c'è mi piace di più vorrei provarlo un punto a martinio che comunque sia più forte di poco più forte poi ho messo questo che dovrebbe essere super buggato mi hanno detto la formazione ora lasciare cos'è che abbastanza difensiva però potrebbe cambiare la cosa tanto a domingo no l'italiana buggata buggata stra buggata porca tuttana questa la perdi sicuro ma che gusto c'è con giocatori c'è pure florenzi è spettacolare c'è che gusto c'è giocare con quei cazzo di tre là davanti non c'è gusto però che sia scarso così l'alto ma come cazzo si fa a stare così larghi c'è culo portiere è buggato se portiere è mezzo buggato di quel c'è capisce le panate che fa sto cazzo di cile portiere è tua troppo sul portiere questo cazzario luca porca puttana 89 di velocità uh 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 oh mio dio rovesciata porca puttana che gol porca puttana non fai con cazzo se ho perduto oggi ma questa cazzo di rovesciata si torna costino guarda e bomba mamma mia che spettacolo che spettacolo che spettacolo che spettacolo guarda che sei veloce mamma mia DeLuca ha messo le frecce a DeLuca 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 2 a 0 e questo ragazzo 89 di velocità cioè se non lo sfrutto così non vale un cazzo perchè pure è basso boom Giuseppe DeLuca cazzo gol uh uh grandissimo portiere grandissimo gilet grandissimo via eh vaffanculo non immagina guarda lumbia di testa proprio è impossibile io non l'ho mai visto fare gol di testa lumbia mai visto vai così vai così vai così fai DeLuca 3 a 1 DeLuca grande gran gol anche qui bella finta pensavo tipo che me l'avesse presa perchè di solito quando ci facessi finta le ce le mani invece no l'ho penetrato perfettamente vedo da un po' ho apposcoato ok ha un buonissimo destro palo ha laggato tutto non ci ha capito un cazzo ... Taddei Taddei Ignoranza Vai De Luca Progressione di De Luca Eh non c'è nessuno adesso No Mi dispiace ragazzi La partita è finita così Dunque andiamo a vedere ragazzi Risulta vittoria 4 a 1 Vorrebbe finalmente la prima vittoria dopo due mesi 4 a 1 Strameritata poi per l'amor di dio Tiri di lui 6 punti ragazzi 6 punti ce ne mancano 4 per Per la permanenza insomma Per non retroscena della salvezza insomma Abbiamo 8.000 crediti Niente andiamo giù alla seconda partita va Dunque ragazzi Seconda partita giusto un piccolo cambiamento Ho messo dentro Sanzone che c'ha Tanto c'ha La statistica ha 80 dello c'è Seltata per il tiro Eccolo tranne per la difesa che sti cazzi Il fisico non è anche il resto Ma è veramente forte Quindi andiamo a giocare Scusate lo stiamo guardando Stiamo andando in telefono Porca puttana che squadrone che ha All'attacco mostuoso Fu un puttino Li costa e Falcavo Ha bugato Leavie Wolcott Poi per il resto è ancora una difesa d'acciaio Per il resto poi La Degà in porta Ojinbo Ojinbo Non so come faremo Ma ragazzi Così Così Un buon destro Troppo alto Aspettate troppo Bella palla Vai E vai Vai Sanzone Che sfiga Però non ci credo Non ci attraversa Con la cazzo Nel sogno Del portiere Cazzo Esci E non ci chiede Il primo tiro in porta Gol Primo tiro in porta D'un 300 Io ne ho fatti 200 di tiri D'un primo Eh vabbè La madonna A parte le ho tirate addosso Pura minchia Tutti Porca puttana Che curo però Oh è incredibile Tanto ho capito Che sta partita Ci devo entrare in porta Con il pallone Perché a Degà Non gli segno C'è poco da fare Da dire Da fare Adesso il passaggio Ti fa Guarda tutti in mezzo Che ve la prosso Che cazzo era? Un tiro Che cazzo era? In senso Dai Non ci chiede la gol Un'altra volta Mi ha preso un baco Stavolta Mi ha preso un baco Guarda Ci manca soltanto Che era fra il gioco Incredibile Perdo un a zero così Con 700 tiri Oh dai Non ci credo Non ci credo La sto mettendo tutta Per fare Stavolta Dai Mi ha preso sulla linea Fuori gioco Tutto io Tutto da solo Guarda mi fa pure gol Mi fa pure gol Vabbè Dai Non è possibile Non è possibile Secondo tiro Gol Incredibile Cioè Questo che Vaffanculo Come si deve incazzare Due tiri Due gol Porca puttana Due tiri Due gol E tutti così poi Mamma mia Che schifo Vaffanculo Adesso sono in curia Cos'è Certo che parla Vaffanculo Non ci credo Tre tiri Tre gol Non lo so Io ho fatto 700 tiri Finalmente un gol L'ho fatto Però Mamma mia Ci ho messo 90 minuti Per fare un gol 90 minuti Su 700 tiri Cioè Avevano fatto tutti i gol Se ogni tiro che avevo fatto Stavano lo so 10 a 3 stavamo E tra l'altro Per poco la prendeva Quello Che se Non me lo merito Non me lo merito Cioè Questo è Cazza fatto Finisce la partita 3 a 1 Il risultato finale Vabbè Abbiamo 5 partite Ancora Per farcela 5 partite 15 punti Ce l'abbiamo ancora Ragazzi Siamo a 9 punti In fondo Ci manca No 6 punti Non magari 6 punti Cioè 3 gol al novantesimo Dite noi C'è una cosa normale Questo gioco Quanti tiri fa? Per curiosità Per curiosità Quanti tiri ho fatto io Ma ho 16 tiri Lui 2 3 tiri Chi 2 è sbagliato 3 tiri 3 gol Ha fatto 3 tiri 3 gol Io ho 16 tiri Dai Tiri in porta 9 1 Non ho fatto 1 Su 9 tiri Non ho 3 Porca puttana 6 punti 4 partite No 5 4 partite Ragazzi Non so se ce la facciamo Ma che ci vada Rifaremo la cosa La divisione Poi ritorneremo Sì Io spero ragazzi Se questo video vi sia piaciuto Ci vediamo Un prossimo